A Fano ci sono tante casette colorate. Si chiamano Elena Tommasi e Alessandro Rossini, fanisi doc di sei anni, e sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione dell'assessorato al turismo che ha lanciato Vacanze per i piccoli principi. Chiaramente ispirato al libro di Antoine de Saint-Exupéry, il progetto comprende dei video nei quali viene raccontata la città da un punto di vista insolito e fantasioso, quello dei più piccoli. Fano, infatti, è in grado di offrire una proposta ricca di stimoli che piaccia alle famiglie, alla ricerca di un luogo nel quale vivere un periodo di benessere, ma anche ai bambini che possono giocare spazi tranquilli, tante le opportunità di mare, relax e divertimento anche sulle spiagge del litorale fanese dove sventolano la bandiera verde e quella blu per le acque pulite. Anche la cultura fa la sua parte con i laboratori, gli spettacoli e le tante attività per vivere un'esperienza unica ed emozionante. Oltre alla promozione sui social è stato creato un depliant con l'elenco delle strutture ricettive compresi servizi aggiuntivi come il noleggio gratuito di passeggine e zaini fino alla ristorazione con menù a loro dedicati, informazioni anche sugli stabilimenti balneari e i luoghi di divertimento con i link che rimandano direttamente alle strutture. Tra queste lo Sport Park, il Museo del Bali e Casa Archilei. Sul sito invece spazio anche al calendario degli eventi a misura di bambini e una mappa nella quale sono indicati tutti i servizi con colori diversi in base alla tipologia. L'idea è dare concretezza al piano strategico. Abbiamo presentato la nuova vision della città qualche giorno fa, hanno detto che quest'anno lavoravamo su un vero prodotto turistico, quello dedicato alle famiglie. Tutto questo lo venderemo nel mercato turistico con una campagna veramente carina, quindi anche Fano al suo piccolo principe e Fano sarà una vacanza per piccoli principi. Una promozione costante che ovviamente vuole arrivare anche nel periodo autunnale perché vogliamo anche un po' destagionalizzare. Quindi direi un progetto molto importante e questa strada la compirà anche il progetto che riguarda l'outdoor, il progetto che riguarda dare vitalità alla città di Vitruvio, alla città del Carnevale e così come tanti altri prodotti turistici che dovranno dare vera forza al turismo nella nostra città. È un messaggio semplice, efficace e immediato, ha commentato invece il sindaco Seri. Lavoreremo anche su altre iniziative, si tratta di investimenti che portano risultati e ricadono sull'intera città. Lo slogan che abbiamo scelto è che non vuole una vacanza da bambini. La vacanza è leggerezza e ci piace tornare anche bambini con intelligenza ovviamente. Ma quello che mi piace sottolineare è che sta in un riconoscimento che abbiamo avuto a livello internazionale con questo progetto WOND, che riguarda proprio riferimento alla città delle bambine e dei bambini, ma in termini turistici, in termini di qualità dell'accoglienza per le famiglie. È un riconoscimento ma che si trasforma anche in finanziamenti e grazie a questa opportunità stiamo creando questo percorso che è passato attraverso anche il piano strategico del turismo, ma non è un punto d'arrivo, è una tappa, vogliamo sempre migliorare, sempre crescere e questa è già una prima risposta, una prima tappa molto importante perché a Fano si può fare una vacanza da principini. A Fano ho scoperto una chiesa stranissima. Wow! Non hai il tetto? Il tetto è il cielo. Bellissimo! E se piove come si fa? I grandi sono ben strani se non desiderano una vacanza da bambini.